video 4k 30 non fai 60 fps in 4k ma li fai invece in full hd da questo realme 7 5g in questa giornata bellissima purtroppo zona rossa non c'è nessuno fuori io sono uscito per fare un po di attività fisica fare un po di corsa e tra l'altro c'è anche un bel vento devo essere sincero fa veramente freschino non credevo saltellino si può fare zoom 2x 5x direttamente durante la ripresa e poi c'è questa modalità ultra steady che permette appunto di stabilizzare al massimo la ripresa sembra sembra veramente niente male direttamente dall'anteprima che vento state sentendo anche voi immagino niente sembra una posizione composta dimmi ti sembra una posizione composta ma ti dici a me che me frega questo è il mio puff io vengo ripresa solo qui mi stiracchio mi faccio grattare la testolina che lussuriosa schifosa